Da DJ e da Cristiano sono orgoglioso e felice della scelta di Daddy Yankee, uno degli artisti latini, reggaeton più importanti della storia della musica internazionale, che dal palco ha deciso di dire basta la musica per riterarsi e dedicare completamente la vita a Gesù. Ascoltate le sue parole, grazie signore, questi sono momenti eccezionali, veramente eccezionali. Mi gente, questo per me è il più importante della mia vita e se lo voglio compartire perché non è lo stesso vivere una vita di esito che una vita con proposito. Per molto tempo io ho intentato a llenare un bacio in mia vita che non potevo llenare. Trattava di riempire e buscare un sentino a mia vita. In alcuni appartentavo a essere ben felice, però faltava qualcosa per farmi completo. E le ho devo confessare che già questi giorni terminaron. Alguien poteva llenare questo bacio che sentia per molto tempo. Mi potevo dar conto che per tutti ero qualcuno, però io non ero nulla senza lui. Pote recorrer il mondo durante anni, raggiungo molti premio, applausi e elogio, però me dì conto di qualcosa che dice la Biblia. La Biblia dice a tutti que lo reconozca in pubblico, qui è la terra, anche lo reconozca davanti di mio padre. Grazie. Grazie. Ora, il che mi conosce per Dari Yankee e che dà il Dari Yankee in Cristo, Raymond Ayala, in Puerto Rico. Se acabò una storia e va a cominciare una nuova storia, un nuovo comienzo. Aggiungo tutti i nostri amici, come la musica, le sociali, le piacciono, le piacciono, un micrófono, tutto ci che Gesù mi ha dato trago è ora per il Reino. Grazie a tutti, Puerto Rico. E spero che voi cammini con me in questo nuovo comienzo. E spero che si esegravi qualcosa di importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.